La festa dei morti è una ricorrenza molto sentita, risalita al X secolo. Viene celebrata il 2 novembre per commemorare i defundi. Si narra che anticamente nella notte tra l'1 e il 2 novembre i defundi visitassero i cari ancora in vita, portando ai bambini dei doni. Oggi questi doni vengono acquistati dai genitori e dai parenti nelle tradizionali fiere che si svolgono in molte parti della Sicilia. Qui vi si trovano bancarelle di giocattoli e oggetti vari da donare ai bambini, che vengono poi nascosti in casa e trovati da quest'ultimi al mattino presto con una sorta di caccia al tesoro. Oltre a giocattoli di ogni sorta, esiste l'usanza di regalare scarpe nuove, talvolta piene di dolcetti, come i particolari biscotti tipici di questa festa. I crozi imotu, le ossa di morto, i rametti, i taralli, ciambelle rivestite di glassa zuccherata, i nucatoli e i tatù bianchi e marroni, i primi velati di zucchero, i secondi di polvere di cacao. Frutta secca e cioccolatini accompagnano cannistro. Un cesto ricolmo di primizie di stagione, frutta secca, altri dolciumi come la frutta di martorana e i pupiri zucchero, statuette di zucchero dipinderi tra endi figure tradizionali come i paladini. È un momento, diciamo, importante di religiosità e di rispetto verso i nostri cari. Quindi da portare sempre avanti e non fare morire. E la tradizione deve essere condivisa da tutti perché, certo, i numeri magari non sono più, una volta si faceva molto più produzione, ma io dico che non dobbiamo fare mai morire questi ricordi, anche nelle proporzioni più piccole, ma però dobbiamo avere sempre la presenza sul tavolo. Ogni anno facciamo queste preparazioni per i defundi, che sono la frutta martorana, poi facciamo anche osse di morti, chiamati i moscardini, poi facciamo dei taralle, che siamo molti richiesti in questo periodo, per la mette di miele. Con queste pulpe di zucchero ogni anno sono tutte massime richieste, quella tradizionale per i cari defundi. Grazie a tutti.